Ciao a tutti, grazie dei vostri applausi calorosi, è un'emozione per noi suonare per voi qui stasera, veramente, e non succede sempre, devo essere sincera. Vorrei semplicemente spiegare il titolo del prossimo brano, che è sempre scritto dallo stesso autore, On a Bus in Uruguay, e questo brano è stato scritto per rappresentare lo sballottamento che c'è in un bus in Uruguay, quindi dove le strade non sono sempre molto stabili, dove insomma il viaggio può essere non particolarmente comodo, e questo compositore proprio per sottolineare il fatto che ci sono delle sensazioni che possono essere trascritte in musica, ha trascritto questa semplicissima sensazione in musica. Buon ascolto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.